Eccoci qua un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Davittis. Cari amici, nella giornata di sabato ci sarà un progressivo peggioramento. Avremo infatti cielo sereno o poco nuvoloso a risveglio, ma le nuvole guardate aumenteranno col passare delle ore. E quindi tra il pomeriggio, sui rilievi, già cominceranno le prime precipitazioni e poi tra la sera e la notte tenderà a peggiorare. Ed avremo un avvio di settimane, avremo una domenica piuttosto autunnale con un crollo delle temperature. Domenica, però sabato, ancora tutto sommato valori stazionari. Vedremo appunto, osserveremo questo generale peggioramento col passare delle ore e quindi tra la sera e la notte delle precipitazioni che raggiungeranno anche il nostro territorio nel pomeriggio a partire dai rilievi. Per il momento io mi fermo qui.